Ascolti, io adoro i bambini e anche inventare progetti divertenti e do il meglio di me negli ambienti caotici, quindi direi che questo è... Avrei solo un paio di domande. Oh, sì, l'ascolto. Vorrei che ora lei mi mostrasse... la rianimazione cardiopolmonare appropriata per l'età di questa bambola. Ok, ma certo che posso farlo, stia a vedere. Il primo step, ovviamente, è controllare che il bambino stia respirando. Già, perciò... Mi spiace, questo bambino è morto.